ben ritrovati e benvenuti con un'altra puntata di auto occasioni con le migliori proposte ovviamente scelte per voi io vado immediatamente a collegarmi con beppe rosignolo che è il responsabile alle vendite del gruppo teorema opel ciao beppe ciao elisa buongiorno a tutti voi la opel teorema si in corso rosselli 181 a torino ma oggi vi sto parlando da casa mia perché noi come tutti gli italiani rispettiamo le disposizioni governative e quindi stiamo a casa di fatto però non ci siamo mai fermati perché continuiamo tutti a lavorare in smart working e quindi lavorare da casa allora come detto tu beppe ovviamente la concessionaria è temporaneamente chiusa secondo quanto appunto stabilito dal dpcm però voi siete sempre operativi e sempre attivi con il vostro servizio efficientissimo 100% online con il quale sembra proprio di essere in concessionaria allora spiegaci tu beppe assolutamente proprio per continuare a essere un punto di riferimento opel a torino e continuare a seguire al meglio la nostra clientela abbiamo messo in atto l'operazione 100% online di che cosa si tratta di ricreare la visita nei nostri showroom da parte dei clienti e quindi andando sul nostro sito www.teoremaonline.com avete la possibilità di avere in tempo reale un consulente che vi potrà seguire per quelle che sono le vostre esigenze che possono essere dalla configurazione del vostro modello opel preferito passando per le varie soluzioni finanziarie fino eventualmente alla vera e propria stipula del contratto tutto rigorosamente online tutto rigorosamente dal divano di casa vostra allora avete capito è un servizio semplicissimo voi potete collegarvi con il vostro pc il vostro smartphone e allora andiamo a scoprire insieme le proposte firmate teorema opel a te la parola beppe abbiamo l'ultima nata di casa opel quindi la nuova corsa con un risparmio di 4.500 euro potete averla da 10.400 euro opel crossland x da 12.950 quindi con un risparmio di 5.500 euro oppure il suv più grande la grandland x da 19.900 euro con un risparmio qui di 8.500 euro da listino ma attenzione per tutti gli acquisti online solo per gli acquisti online c'è la possibilità di avere la prima rata a ottobre 2020 quindi tra sei mesi e allora beppe quali altre proposte online ci sono per i nostri amici a casa beh vi invito sempre di andare a scoprire sul nostro sito www.teoremanline.com dove potete trovare le nostre proposte chilometri zero opel aziendali oppure delle alternative al nuovo opel o di altri marchi e allora grazie beppe per questo collegamento per averci spiegato quanto sia semplice collegarsi al vostro sito con lo smartphone o con il pc e allora ricordiamo appunto il sito beppe assolutamente www.teoremanline.com avete la possibilità di avere in tempo reale un consulente che vi potrà seguire per quelle che sono le vostre esigenze che possono essere dalla configurazione del vostro modello opel preferito passando per le varie soluzioni finanziarie fino eventualmente alla vera e propria stipula del contratto tutto rigorosamente online tutto rigorosamente dal divano di casa vostra e che dire noi di teorema opel ci siamo ci saremo io sono ottimista e sono convinto che presto torneremo tutti finalmente alla normalità e noi ci stiamo riorganizzando per l'apertura stiamo riorganizzando i nostri saloni con un occhio ancora più attento per quella che è la sicurezza nostra e della clientela che verrà a trovarci quindi vi aspettiamo più entusiasti che mai rispettiamo le regole stiamo a casa e andrà tutto bene e allora grazie beppe per questo collegamento e come sempre grazie a tutti voi per averci seguito alla prossima puntata